Luca Pastore Sì Di qua Piacere Rocco Ventura Di dietro Piacere Gli anni 80 sono finiti Nei momenti Siete pronti? Pensavo di dovermi occupare d'affari In Italia non si fa business senza la politica Oggi il sistema è crollato Gerardo Golombo Benvenuti a Tangentopoli Ha detto che ti vuole candidare Dobbiamo saldare la Repubblica del Parlamento Secondo te io mi diverto a rispondere alle telefonate in diretta Voglio Domenica Inn Capisci che la Lega ti porta in Parlamento o no? Se chi comanda oggi è debole dobbiamo capire Chi comanderà domani Ma lei lo sa che significa Seconda Repubblica? Che vi beccate gli scarti dell'aprivo? Non è ancora tempo per gli uomini nuovi Basta, facci mettere le mani in faccia, cazzo Ora tocca a noi Qua facciamo la storia Abbiamo bisogno di uomini con le panni Signori Rock and roll Dicono tutti che qui parte l'inchiesta del secolo Abone ore Quindi Le p wheels Dicono di Le panni Grazie.